salve a tutti ragazzi e ragazze allora oggi vi faccio un piccolissimo video perché ho fatto un piccolissimo proprioissimo istimo istimo ordine da lo sponsor del gruppo mani creative forum andromeda biz che per per il gruppo questo mese fino alla fine di gennaio abbiamo un bello sconticino insomma sugli acquisti però io avevo bisogno proprio di due cose due proprio contate perché ne avevo proprio la necessità e quindi lo acquistate allora anzitutto ho preso lo stampo per i bottoni perché come avete visto ultimamente sto facendo è il nome il mio momento insomma del cucito io al momento della resina un momento del cucito il momento e questo è il momento del cucito quindi mi serviva di fare con la resina ovviamente i bottoni decorativi per alcune creazioni che sto facendo e che ho ovviamente fatto dei regalini di natale e volevo fare proprio dei bottoni particolari per quelle quindi ho fatto l'ordine da andromeda e ho preso questo questo stampo della gedeo pebeo gedeo e poi sempre per il cucito e voi mi direte che c'entra ho preso i polish ring polish ink sono un materiale cioè è un materiale che si trova sia nella versione trasparente come questa questo è bianco ma ci sono anche in vari colori ed è un materiale che dove ci si può stampare o disegnare fare dei disegni e poi con una pistola a caldo o nel forno di casa scaldando facendo scaldare ovviamente dopo aver fatto il disegno questo materiale si restringe fino al 45 per cento mi sembra di aver letto e quindi volevo fare anche con questo dei piccoli bottoni che avevo visto fare da ha detto fatto da d'angeli di pezza quindi volevo avevo preso l'idea da lei e quindi vorrei fare queste cose oppure fare dei piccoli charms diciamo dove scrivere fatto a mano insomma adesso vedrò quello come li utilizzerò e ho preso queste due uno è trasparente l'altro invece bianco vediamo cosa ne farò e vi farò vedere ovviamente un video dove vi spiego che cosa ho realizzato e in più marica mi ha mandato io credo siano di vetro perché sbattendoli è un omaggio sono dei fiorellini questi veramente sono carini perché sempre con il cucito anche se questi non hanno i fori per poterli cucire però con la colla a caldo e sono veramente molto carini sono dei fiorellini cristallo e sembrano tipo aurora boreale vedete sono veramente molto molto graziosi quindi la ringrazio per questo e questo è l'omaggio ecco avete visto cioè ho fatto proprio video breve breve perché ho comprato proprio giusto due cose però tutte e due sono per il cucito ora vi saluto e al prossimo video